Entro questa settimana sarà ufficializzato il nome del candidato presidente del centrodestra per elezioni regionali del 10 febbraio. Secondo il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, non ci sono più ostacoli per la candidatura di Marco Marsilio a governatore del centrodestra in Abruzzo e la conferma la stampa nazionale arrivata nella serata di ieri da parte del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, il quale ha detto di aver parlato con il segretario della Lega Matteo Salvini accordandosi sulle candidature in Piemonte, Sardegna, Basilicata e Abruzzo dove i coordinatori regionali di Forza Italia e Lega Nazario Pagano e Giuseppe Bellachioma sollecitano che si faccia presto per consentire ai militanti delle forze di centrodestra di avviare in modo più concreto la campagna elettorale prima di Natale per arrivare pronti al 10 febbraio. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etelbardo Sigismondi, spiega che il suo partito è lavoro su tutto il territorio ormai da mesi. Nell'attesa della piena ufficializzazione della candidatura a presidente del senatore Marsilio, continua da una parte l'attività politica con la formazione delle migliori liste in tutta la regione, dall'altra il lavoro sul programma che verrà illustrato domenica 16 dicembre a Francavilla al Mare. Il leader della Lega in Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, attende entro la settimana l'ufficializzazione della candidatura di Marsilio e ribadisce che nel momento in cui a Fratelli d'Italia aspetta di indicare il candidato presidente e il nome ormai quasi certo è quello del senatore Marsilio, pur se ci saremmo aspettati una scelta autotona e rappresentativa del territorio, afferma, ribadisco che stimo il senatore Marsilio per le sue qualità e capacità. È un dirigente nazionale di Fratelli d'Italia ed ha esperienza politica. La Lega farà tutto il possibile per sostenerlo e portare il centrodestra alla vittoria. C'è anche da dire, prosegue Bellachioma, che la scelta del candidato deve essere metabolizzata dall'elettorato, visto che con i nostri militanti siamo in campo già da 15 giorni per riconquistare la regione e farla rinascere. Il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, ci ha detto che sulla ufficializzazione del candidato presidente Marsilio non sa nulla poiché, afferma, non ci siamo sentiti né incontrati in questi ultimi giorni e mi auguro che possa avvenire in breve tempo. Sono in contatto con i vertici del mio partito e appena avrò notizie le comunicherò.